La mamma incinta, la bimba e il papà vanno a trovare Frozen. Andiamo a trovare Frozen? Andiamo! Allora bimba, ti devo mettere i pattini. E perché? Perché lì c'è molto di attività, lì c'è di scivolare. Dimmi via eh. Via. Scivoliamo, pattiniamo. La Barbie. Tre, via. Andiamo. Oh come è alta. Oh come è altissima, attenta ti aiuto. Ciao Elsa. Ciao a tutti. Ciao. Dimmi. Allora, il tuo caccello è scivoloso perché? Perché io ho il potere di ghiaccio, l'ho fatto tutto di ghiaccio. Ah capito qua. Io ho preso qua. Vuoi una limonata gelata? Eh no. Un gelato? Vuoi un gelato? Vado giù a prenderlo. Apre il mio forno segreto. E' l'acqua. Eccolo. che buon gelato che avrà preparato Elsa. Sicuramente a quest'ora sarà pronto. A prenderlo un po' di nero. A metterlo in corno. Eccolo, tieni. Grazie. Io voglio una limonata gelata. Ok, vado subito a prepararlo. Prendo un ghiaccio. L'ho fatto già qua. Vado a prendere un ghiaccio. Un ghiaccio. Adesso prendo il limone. metto un ghiaccio. Metto un ghiaccio. Ti metto in ghiaccio. Un ghiaccio di nuovo il ghiaccio. Lo metto qua all'acqua. E l'ha freddato. Eccoci. Grazie Elsa, buonissimo. Ciao a tutti amici. Ciao. Ostia, cosa viene su? Andiamo.